benvenuti sono daria magidi e rappresento il centro di competenza artes 4.0 il centro di competenza capitanato dalla scuola superiore santana di pisa un'eccellenza a livello internazionale il centro di competenza artes si differenzia dagli altri centri perché non ha una copertura limitata geografica bensì è stesa su tutta l'italia copriamo sette regioni e nel nostro ecosistema abbiamo 127 soci piccole e medie imprese grandi industrie associazioni università tutte insieme lavorano per divulgare la conoscenza dell'industria 4.0 attraverso progetti di formazione orientamento ed innovazione vogliamo trasformare l'italia in un'italia industriale digitale rappresento la mia azienda dax group una società di digital transformation che accompagna i propri clienti nella trasformazione digitale dei propri processi non solo i sistemi informativi ma anche l'organizzazione e le risorse lavoriamo sulla formazione delle risorse in modo particolare delle donne purtroppo assenti nel settore dell'industria 4.0 e del manufatturiero in generale vi accompagnerò a conoscere due dei nostri progetti che affrontano tecnologie abilitanti per migliorare ottimizzare i processi il primo progetto è Sentinel un progetto di robotica intelligenza artificiale sensoristica e realtà virtuale che unendo uno smog di queste tecnologie ci permette di fare un controllo e un monitoraggio degli ambienti industriali il secondo progetto è InGenius un progetto di identificazione e tracciabilità della logistica un progetto che attraverso degli smart label va a supportare le attività tipiche di un magazzino lo stoccaggio il picking inventario benvenuti in artes 4.0 benvenuti nel futuro grazie a tutti